Salve a tutti. Prima di andare in vacanza ad agosto, e non fare video per qualche settimana, a grande richiesta, e con molto piacere, ho deciso di fare un video sull'uso dell'editor e della modalità creativa in Planet Explorers. In questo video saranno incluse anche quasi tutte le novità della versione 0.83. Gli unici cambiamenti grossi che non vedremo ora sono quelli relativi alla gestione della colonia. Ho deciso di dividere questa parte sia perché è un argomento che riguarda tutte le versioni, sia perché ho poco tempo per farle riprese e spazio sul disco rigido. Iniziamo col vedere più in dettaglio rispetto all'ultimo video come funziona la costruzione degli edifici. La prima cosa da fare per costruire una buona casa è avere una base di appoggio regolare e che non sia influenzata dai penni del terreno. Il metodo più semplice per ottenere questa base è creare dei piani di cubi come vedete ora. Creare un pavimento è semplicissimo. Per farlo, entrate in modalità creativa premendo B o cliccando sull'icona con la B a destra dell'inventario rapido. Fatto ciò, selezionate dall'inventario rapido o dall'icona del menu subito a sinistra di quella con la B, il materiale da usare e trascinate da un angolo del piano a quello opposto il mouse tenendo premuto CTRL. Fatelo tante volte finché la base di costruzione non sarà sopra il livello della terra e dell'erba. Una volta creato il pavimento della casa create i muri come mostrato. Sempre col materiale scelto in mano, trascinate il mouse lungo tutta la lunghezza del muro tenendo premuto CTRL e, quando il muro ha lunghezza e spessore desiderati, tenete premuto maiuscolo e trascinate verso l'alto il mouse per dargli l'altezza desiderata. Tenendo premuto ALT invece sarà possibile selezionare dei blocchi per cancellarli. Se avete fatto un errore potete sempre annullare l'ultima operazione effettuata premendo assieme maiuscolo e il tasto Z. Premete invece del tasto Z il tasto X per ripristinare un'operazione di annullamento. Un tetto piano si può fare anch'esso facilmente tenendo premuto CTRL in modo simile a come avete fatto per il pavimento. Cancellare i blocchi con ALT è poi anche utile per creare buchi per porte e finestre. In futuro forse si potranno anche dipingere i blocchi piazzati, ma ora questa opzione credo non funzioni. In ogni caso già con questa versione è possibile creare degli edifici fatti di mattoni cubici singoli stile Minecraft usando mattoni con una texture scelta da voi. Poi vi mostrerò come. È anche possibile dal menu in basso scegliere la forma da dare ai blocchi piazzati. Oltre ai cubi, che possono essere di diverse dimensioni, potrete usare sfere, cilindri, piramidi, eccetera eccetera. Una volta costruiti i muri la casa dovete arredarla. Per farlo potete usare gli oggetti già inclusi nel gioco, ma volendo, e questa è una delle cose più belle di Planet Explorers, potete crearvi voi i vostri arredi con l'editor. Vedremo tra poco come si usa, ora vi mostro un'altra nuova caratteristica dell'ultima versione. Dalle versioni successive all'ultima demo potrete memorizzarvi come ISO gli edifici che costruite e usare i dati così copiati per portare facilmente le vostre costruzioni in altre mappe o farne anche più copie in poco tempo. Per creare un falliso delle vostre costruzioni, dal menu di Building cliccate su Seleziona. A questo punto, tenendo premuto CTRL, includete nella selezione la base del vostro edificio e, tenendo poi premuto Shift, andate verso l'alto fino ad includerlo tutto, come vedete nel video. Cliccate quindi sul bottone Save che vi comparirà per salvarvi l'edificio sul disco. Una volta che avete il file, potrete richiamarlo ogni volta che vorrete andando nel menu, sotto sezione Building List. Da lì potrete piazzare una copia della vostra casa dove vorrete, a patto di avere le risorse richieste. In creativa le risorse sono infinite. Nota. Questo sistema copierà solo i muri della vostra casa, non porte ed arredi. Ora vedremo come usare l'editor per creare arredi personalizzati. Per creare un oggetto d'arredo, andate nel menu Create in alto a sinistra e selezionate l'opzione Object è la grandezza desiderata del vostro oggetto. Una griglia più piccola produrrà un oggetto più piccolo e più ricco di particolari. Al contrario farà una griglia grossa. Una volta scelto il tipo di oggetto da creare, disegnate nella base. Selezionando un materiale dal menu a sinistra potrete poi usarlo per scolpire l'oggetto. Ad esempio per fare una base rettangolare procedete come per la casa di prima, tenendo premuto CTRL e trascinando ai due angoli opposti. Terminata questa operazione potrete estrudere in alto o in basso questa base muovendo il mouse. Dal menu sempre a sinistra potrete scegliere anche il tipo di pennello da usare. Oltre al cubo sono disponibili anche il singolo voxel, il cubo tagliato in due, la sfera, il cilindro ed il cono. Lavorando sull'altezza durante la modellazione, per il cubo tagliato e il cono determinerete anche la pendenza delle facce laterali e potrete trasformare la sfera in un ellissoide. Col cubo tagliato premendo TAB potrete invertire la direzione della sua inclinazione. Premendo CTRL più Z potrete invece annullare l'ultima cosa fatta in caso di errore. Usando invece il cursore sulla destra come vedete ora potrete cambiare il piano di lavoro su cui lavorate. Cosa utile ad esempio per rifinire la parte superiore di un oggetto dopo averne costruito la base. Premendo nel tasto in basso che ho mostrato ora è anche possibile creare un piano di simmetria. Queste opzioni sono utilissime per creare oggetti simmetrici, come ad esempio una figura umana. Da questo menu potete scegliere l'asse o gli essi in cui mirorare ciò che modellate e la posizione del piano di simmetria. Ogni cosa fatta da un lato del piano verrà rifatta pari pari in automatico dal computer sulla parte opposta. Eccone qui un esempio. Queste tecniche di base sono valide per la modellazione di qualunque oggetto con l'editor, anche armi e veicoli. Quindi le descriverò ora una volta per tutte. Se avete dei dubbi, riguardatevi quindi questo spezzone di video. Nella tendina subito sotto a quella dei materiali troverete quella delle vernici. Da qui potrete dare un colore ai vostri oggetti. Sceglietene uno dalla tavolozza, scegliete un cursore fra i due disponibili in basso e sbizzarritevi. Oltre a dipingere gli oggetti, potrete pure applicarci sopra delle immagini come texture. Per farlo, l'immagine da usare non deve essere più grande di 512x512 pixel e deve essere in formato PNG. Il menu per fare questo allo stato attuale non è dei più user friendly che esistano, ma vi mostro come fare. Una volta creata l'immagine con le giuste dimensioni, cliccate nella tendina decals e poi sul simbolo del più. Ora dovete dare al gioco il percorso dove si trova. Per farla facile, copiate l'immagine nel disco C e scrivete il nome del file come vi ho mostrato. Ovviamente questo vale se usate Windows, in Mac e Linux dove il disco è organizzato diversamente dovrete fare tutto di conseguenza. Le decals così create, possono essere applicate a qualunque oggetto, arma o veicolo intendiate creare. Per utilizzare una decal, selezionatela dal menu a sinistra e piazzatela semplicemente sull'oggetto. Dal pannello a destra potrete spostare, ruotare e ingrandire o rimpicciolire la vostra decal nel modo che desiderate, cambiando le coordinate del suo centro, gli angoli di rotazione o la scala nei tre assi. Cliccando poi su Apply, applicherete le modifiche. Per salvare la vostra creazione come Falliso, il formato utilizzato dal gioco, cliccate sull'icona a forma di floppy in basso a destra. Nel menu di salvataggio, oltre a dare un nome all'oggetto, premendo F10 o cliccando su Capture, potrete dargli anche un'icona personalizzata. Cosa utile poi dopo per riconoscerlo più facilmente nel vostro inventario quando lo creerete. I Falliso saranno saldati nella vostra cartella Documenti, sotto cartella Planet Explorers, in modo da poter essere trasferiti ad altri PC o pubblicati. Ci sono alcuni siti, fra cui quello ufficiale del gioco, che permettono ciò, e le ISO si possono caricare pure sullo Steam Workshop. Gli oggetti che vedremo dopo come esempio, visto che quelli creati da me fanno cagare, li ho presi da uno di questi siti, e i download li trovate tutti in descrizione. A fianco del bottone di salvataggio trovate quello per creare il vostro oggetto in inventario. Cliccateci sopra e, se avrete le risorse necessarie, il vostro oggetto sarà craftato e disponibile per l'uso. Per piazzarlo trascinatelo fuori dal vostro inventario come un qualunque altro oggetto. Se volete invece utilizzare voi oggetti creati da altri, copiate i Falliso scaricati nella vostra cartella del gioco e andate sulla tendina ISO per selezionarli. Anche questi oggetti potranno essere quindi craftati nella stessa maniera di quelli creati da voi. In questo esempio, vedremo di arredare la mia casetta da quattro soldi con una bella cucina fatta da uno capace a modellare. A scanso di equivoci, in Windows 7 la cartella delle ISO è quella che vedete ora in sovraimpressione. Beh, non male vero? Questo gioco ha delle potenzialità enormi sotto l'aspetto sandbox. Altro che Minecraft. Parlando di Minecraft, prima vi avevo detto che ancora non è possibile dipingere gli edifici. Ma, c'è il trucco. Seppur di non semplicissimo utilizzo, guardate cosa si può fare con le decal. Ed ecco qua i cubi con la ressource pet che più vi piace. Li potrete piazzare con un po' di difficoltà ad uno ad uno come fareste su Minecraft. Tenete conto che i cubi non sono facilissimi da piazzare visto che si attraversano, e che gli edifici fatti così non si possono esportare come ISO, ma guardate il dettaglio. Pari a quello della texture pack migliore di Minecraft, molto più leggero ed estremamente personalizzabile. Bello o no? Edifici piccoli possono poi anche essere creati direttamente con l'editor degli oggetti. Col pretesto di mostrarvi ancora l'uso delle texture nella gestione dei materiali dell'editor, vi mostro ancora la creazione di una spada. Armi e veicoli, al contrario degli oggetti, per funzionare necessitano anche di alcune componenti specifiche, craftabili nel gioco. Ottenute queste ed avendo abbastanza materiali è quindi possibile procedere alla loro creazione. Per creare una spada ad esempio andate nella tendina parts a sinistra e selezionate un'impugnatura da piazzare nel progetto. Poi, per farla facile, cambiate il livello di riferimento con il cursore a destra, portandolo in cima all'impugnatura, scegliete il materiale ed estrudete la lama della spada come mostrato. In questo caso volevo che la mia spada fosse di quarzo, un materiale che non c'è nel gioco. Per creare un materiale nuovo, nella finestra dei materiali selezionate New Material. Dal menu che vi compare potrete poi impostare varie caratteristiche del vostro materiale personalizzato, fra cui appunto le textures. Oltre a questo dovrete anche dire da quale materiale del gioco ne prenderà le proprietà fisiche come durabilità o potenza di attacco per le armi. Le texture che ho usato in questo video le ho prese dalle voci di wikipedia muro e quarzo, modificando alcune foto dell'enciclopedia per adattarle all'editor. Anche la creazione di uno scudo è relativamente semplice. L'unica parte richiesta è anche qui un'apposita impugnatura. La mia fantasia non va oltre lo scudo di sabbia, ma visto che non ho trovato un'altra ISO già fatta, vi mostro questo a rovinare la scena assieme a una spada fatta invece come si deve. Decisamente meglio l'arma sulla mano destra. Ora iniziamo a vedere la roba pesante. Le armi da fuoco necessitano per funzionare di un'impugnatura, e di una o più canne a seconda del tipo. Il numero di canne influenza direttamente il numero di proiettili che l'arma può sparare in contemporanea. Ogni pistola può avere massimo una canna, ogni mitra 4 e ogni pistola laser 2. Non si possono mettere canne di un tipo in un'arma di un altro tipo. Questo mitra è un'imitazione del mitra di halo. Eccolo in azione. Sono purtroppo obbligato a mostrarvi anche la creazione di un veicolo terrestre, visto che non è così immediata. Un veicolo terrestre necessita di almeno una ruota, una cella di carburante, un motore ed un abitacolo. Parti opzionali sono i cannoni, le sedie per permettere di trasportare altri giocatori e di fari. Di questo veicolo vi mostrerò solo parte della sua creazione, visto che mi vergogno di mostrarvi il risultato finale per quanto ho fatto schifo. Per prima cosa portatevi nel livello più in basso e piazzate una o più ruote. Una volta piazzate queste, nel menu a destra potrete dire se sono ruote destre o sinistre e se sono sterzanti o no. Le ruote sterzanti consentono ovviamente al veicolo di cambiare la direzione, e quindi almeno una deve esserlo. Portatevi poi al livello di asse delle ruote e costruite a strati il resto piazzando i voxile e le parti mancanti. Nota. Se il motore o il carburante non sono sufficienti a reggere il peso del veicolo questo si muoverà male o rimarrà proprio fermo. Ci sono tre livelli di motori e celle di carburante, man mano più potenti, ogni automobile può avere massimo un abitacolo e massimo un motore. Ecco di qua un veicolo di esempio, limitazione della Jeep e del gioco Halo. Non notate qualcosa di diverso dal mio scorso video? Ebbene sì. Finalmente la Patea ha aggiunto i suoni dei veicoli, ma anche tutti gli altri mancanti al gioco. Era ora. Non se ne poteva più di giocare in un mondo ovattato. Per creare un elicottero o una nave da battaglia sono necessarie almeno un'elica fra quelle disponibili e una cella di carburante. Non ci sono particolari problemi di disposizione, ma elica e carburante devono bastare a reggere il peso del veicolo o questo non volerà. Le istruzioni per guidare i veicoli le avevo già messe nella scorsa recensione e questa è un'imitazione di un elicottero militare americano. Per creare degli aerei si procede come per gli elicotteri. I comandi sono pure gli stessi, infatti non sono veri e propri jet, ma possono anche decollare in verticale come un elicottero. Le navi da guerra altro non sono che elicotteri molto più grandi. Sarebbe molto interessante in futuro se gli sviluppatori permettessero a più giocatori di comandarne le sezioni in modo simile a come avviene in giochi come Guns of Icarus. Le navi sono una delle ultime novità del gioco. Richiedono pure loro per funzionare almeno un'elica, un motore, una cella di carburante e un timone da mettere sia come abitacolo sia a fianco alle eliche. Fate molta attenzione quando costruite una nave a farla abbastanza alta e di materiali preferibilmente leggeri. Se infatti il vostro veicolo è meno alto della linea di galleggiamento, questo affonderà appena lo piazzerete. Le moto sono l'ultima tipologia di veicoli che vedremo in questo tutorial. Si creano nella stessa sezione dei veicoli terrestri e richiedono almeno una carrozzeria da moto, una ruota, un motore o una cella di carburante come gli autoveicoli. Navi e moto si comandano come le automobili, ma fate attenzione. Se cadete da una moto in corsa rischiate di farvi molto male. Se volete rivedervi meglio una parte di questo video, o anche delle altre recensioni, ho per molte creato un indice dei contenuti nelle descrizioni di questi video che vi permetterà con un semplice clic al minuto desiderato di andare a riguardarvi facilmente la sezione che vi interessa senza risordirvi tutto. E con questo ho davvero concluso questo lungo tutorial, che spero sia stato esaustivo. Arrivederci alla prossima.